Il momento dedicato ai nostri sponsor, tu sai benissimo che abbiamo degli sponsor che hanno il loro stacco pubblicitario ma questi sponsor invece li vediamo qui dal vivo, sono due aziende meravigliose, stiamo parlando di Rosso Rubino e Intime Passioni Bene, Rosso Rubino, come vi abbiamo già detto in altre puntate, Rosso Rubino, questa azienda di Francesco Frattasio che riesce a realizzare delle creazioni artigianali di Pariur con pietre preziose e semi preziose come potete vedere anche la nostra splendida Ania porta a una creazione di Francesco Frattasio e subito dopo avremo in contemporaneo una sfilata che comprende sia Intime Passioni che Rosso Rubino ma di Intime Passioni ce ne parla in modo più accurato la nostra Ania Intime Passioni, la passione veste noi, sono dei capolavori, vestiti splendidi, sono dei gioielli, gioielli con gioielli gioielli con gioielli, insomma stasera sfilerà una gioielleri, diciamo così Bene, io ho avuto modo di vedere le nostre ragazze che sono splendide già, loro sono meravigliose ma come sono vestite stasera con gli abiti di Intime Passioni e i gioielli di Rosso Rubino sono veramente superbe Signore e signori, Rosso Rubino e Intime Passioni Eccoli qua, andiamo a vedere chi sono belle, veramente meravigliose, Intime Passioni, Rosso Rubino sono belle ragazze, una sfilata meravigliosa, eccole qua che bellissime belle, buone, brave, buone, mamma mia Ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.